È già operativa la nuova strumentazione tecnologica per gli agenti della Polizia Municipale. Come anticipato un mese fa da Notizie di Prato, sono arrivate le 12 security body cam e i nuovi cinturoni in tecnopolimeri e cordura, anziché in pelle, con una fondina particolare che attraverso un triplo sistema di ritenzione rende impossibile spilare la pistola agli agenti. Le telecamere di sicurezza, utili per accertamenti giudiziari e amministrativi, ma soprattutto contro le aggressioni agli agenti, sono utilizzate a turno dal personale dei reparti operativi, che già indossano giubbotti in antitaglio contro gli attacchi di malintenzionati. In partenza per i nostri operatori, perché sono spesso coinvolti in operazioni che necessitano poi di avere un risvolto, comunque fissare in una memoria visiva quello che è accaduto. Queste sono per noi ottimali, in quanto si riesce a gestire da un punto di vista anche di georeferenziazione, altimetria, le riprese, in modo da avere poi tutta una serie di elementi ulteriori per codificare quello che abbiamo ripreso. Il nuovo cinturone invece è in corso di sostituzione per tutti i vigili. Le novità per la sicurezza degli agenti non sono finite qui, perché sono appena arrivati 10 giubbini con airbag, uno per ogni agente in motocicletta, per proteggere schiena, bacino e testa nel caso di caduta. Questo praticamente ha all'interno una bomboletta a gas compresso che in caso di caduta si stacca il collegamento motociclista-moto, si apre praticamente questa airbag e va a salvare dalla nuca fino al coccige la schiena dell'operatore. E poi c'è il rinnovo degli strumenti di lavoro. Sono stati acquistati un nuovo etilometro che si aggiunge ai due attualmente usati durante i controlli su strada e 14 precursori spie di tasse alcolemici fuori norma da accertare con precisione con l'etilometro. Lavorando in una città come Prato, dove non basta mai la sicurezza anche per i cittadini stessi, i nostri agenti, i nostri operatori vengono gestiti con la migliore strumentazione possibile. Poi, ripeto, non basta la strumentazione, occorrono ore e ore di addestramento e durante l'arco dell'anno i nostri agenti sono addestrati all'uso dei presidi difensivi, spray, mazzetta, uso anche delle manette per fermare le persone arrestate e l'addestramento al poligono costante sull'uso dell'arma.